E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo Zuvadelli, questa volta in sella a IH, Quick Mina, il 120. E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo Zuvadelli. E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo. E fa il suo ingresso in campo in sella a IH, Quick Mina e Paolo Adamo Zuvadelli, la testiera numero 120. E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo. E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo. E torna nuovamente in campo anche Paolo Adamo Zuvadelli. E torna nuovamente in campo.